Soprattutto le donne scappavano con la borsa dall'ufficio per fare la spesa e poi tornavano furtivamente dalla porta. E' ovvio, 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 è così, è così, è così, è così, è così, protestate pure ma è così, è così. È così. Già bella papà! Già bella papà! È così. Già bella papà! È così, è così, è così. È così. È così. Protestate pure ma è così, è così, è così, è così, è così, è così. È così. È così.